appuntamento ormai consueto del giovedì sera alle 21.30. Un argomento quello di stasera molto interessante e io a questo punto passerei direttamente la parola al Deus Ex Machina di questa sera, Emanuele Sant'Andrea, buonasera. Buonasera Riccardo, buonasera Daniele. Buonasera a tutti. Allora, questa sera avremo una puntata assolutamente fuori dal comune. È l'ultima della trilogia anonimo, che poi è diventata in realtà una quadrilogia perché l'ultimo gruppo di anonimi, quelli intervenuti nell'85, diciamo subito dopo il delitto degli scopeti, erano talmente tanti che il professore ha deciso di dividerla in due. E quindi oggi ripartiamo da dove abbiamo interrotto la puntata precedente. Ovviamente la raccomandazione è sempre mettete letto i bambini, allacciate le cinture di sicurezza e tenetevi forte, perché cercheremo di raccontarvi fatti assolutamente inediti. Poi sarete voi ovviamente a decidere se, a vostro parere, questi fatti possono avere a che fare con la storia del mostro oppure no. Noi qui non facciamo mostrologia del cotto e mangiato, diamo soltanto gli elementi, diamo solamente gli ingredienti e poi saranno i nostri tre cervelloni invitati questa sera a dirci un po' che cosa ne pensano. Quindi inizierei a presentare le nostre tre menti. Il professor Valerio Scrivo, criminologo da Pisa. Buonasera professore. Buonasera, buonasera a tutti. Ovviamente il professore non ha bisogno di presentazioni, ha scritto un bellissimo libro e poi è ospite in diverse trasmissioni da molti anni, è uno dei massimi esperti a livello italiano e direi anche mondiale del caso del mostro di Firenze e non solo, perché poi ovviamente il professore avendo studiato criminologia si è dovuto, non sua sponte certo, ma per necessità occupare anche dei grandi serial killer che hanno insanguinato la storia più recente. Poi abbiamo la nostra dottoressa da Borgo San Lorenzo, dal Mugello, Lisa Sequi. Ciao, buonasera. Una tutta ricercatrice che è sempre in giro a investigare e a trovare nuovi spunti. E poi questa sera per la prima volta abbiamo con noi Cristiano De Micheli, scrittore, che ha recentemente pubblicato un libro sul mostro di Firenze. Ciao Cristiano. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. Hai per caso con te il tuo libro? Sì, lo mostro qua. Quello scuro desiderio, un profilo del mostro di Firenze. Edito da Rogas, uscito a ottobre. Come sta andando? Ma chiaramente sulle vendite non si può ancora sapere nulla, diciamo a livello di riscontri, di risposte, bene direi, anche da critici piuttosto severi come sono tutti gli appassionati del caso, severissimi direi. Ho ricevuto comunque dei riscontri positivi. E professore, lei ha letto il libro? No, purtroppo no, non ho avuto modo di leggerlo ancora. Mi dispiace. Allora, magari mi dirò. Arriverà sicuramente un'ottima critica. Benissimo. Allora io partirei subito in tromba con gli argomenti della serata, ma prima vi ricordo che per intervenire in diretta potete, anzi dovete comporre lo 055 24 77 985, questo è il numero per chi chiama ovviamente da Firenze, per chi chiama invece da fuori Firenze il numero è 055 24 77 985. Ricordatevi sempre di iscrivervi al canale e di titillare la campanella in maniera tale che verrete automaticamente avvisati e ogni qualvolta un nuovo video verrà pubblicato. Anonimi 85, seconda parte, tutti gli anonimi, o meglio una disamina, quelli che noi abbiamo scelto e che abbiamo ritenuto più importanti, abbiamo cercato di raccontarveli. Nella prima parte abbiamo già abbondantemente parlato di quegli dentichitti e di quegli avvistamenti dei quali mai nulla si era saputo e mai nulla era trapelato al di fuori della stretta cerchia dei diretti interessati, per così dire. Questa sera nuove rivelazioni. Io partirei allora dal primo, anonimo, su questo abbiamo lavorato moltissimo con Francesco Capelletti, perché quando iniziamo ad avvicinarci a questo argomento che erano appunto gli anonimi su indicazione del buon Nino Filastò, l'idea fu andiamo a cercare quelli più, anche i più nascosti, quelli di cui si è parlato meno. E a un certo punto, scartabellando, ci siamo trovati per le mani una singolare storia, datata 11 settembre 1985, quindi siamo a pochi giorni, a una manciata di ore dall'ultimo delitto di Scopetti. E che succede? Succede che l'11 settembre una guardia giurata, di cui ovviamente non faremo il nome perché non è questa la sede in cui fare questo nome, contatta i carabinieri di Prato, perché questa persona abitava a Prato e di là gli risponde il famoso maresciallo Amore e dice, maresciallo guardate io vi devo dire delle cose relativamente alla storia del mostro di Firenze. Allora viene convocato in caserma al nucleo operativo di Prato e alla presenza del comandante del nucleo, che è il tenente Fichera, questo signore, questa guardia giurata, racconta un fatto, devo dire, molto insolito. Questa persona dice, ora io vado a braccio perché non voglio stare qui tutta la sera a leggervi i verbali, quindi magari se sbaglio qualcosa mi correggete, non c'è alcun problema. Per farla breve, questo signore dice, guardate che io nel luglio del 1981 sono andato a Travalle, sono entrato in un bar perché facevo il turno di notte, erano circa le 23.30, mi sono fermato in divisa, quindi è una guardia giurata, in divisa con pistola, entra in un bar perché a prendere un caffè, è normale, no? E dice, mentre io ero nel bar, sono stato avvicinato da una persona alta circa un metro e ottanta, biondino, rossiccio, spalle larghe, petto in fuori, gambe un po' arcuate, rossiccio sia in viso che sui capelli, il quale mi dice, si mette a parlare con me di armi, mi chiede informazioni sulla mia pistola di ordinanza e a un certo punto estrae dalla tasca delle cartucce calibro 22 e me le offre, dicendomi se sei interessato te ne posso portare ancora, io di queste ne ho, cito testualmente, 500 o 600. la guardia giurata a quel punto ha finito di bere il caffè, saluta il suo singolare interlocutore che sta sorseggiando una birra, quindi siamo nel luglio dell'81 e se ne va, con in tasca queste tre cartucce. Ora la cosa interessante è che questo signore, questa guardia giurata, nell'85, si ricorda di questo evento, avvenuto quattro anni prima e consegna anche le tre cartucce, perché ha soleticato il mio interesse? perché le tre cartucce in questione sono descritte come ossidate. E allora, insomma, anche il luogo è strano, perché luglio 81, quindi un mese dopo il delitto di Mosciano, ma tre mesi prima del delitto di Travalle, questo strano incontro avviene proprio a Travalle, in un bar che è all'angolo con Madonna del Gesù. E allora chiedo a voi, partendo da Lisa, se secondo te vale la pena di approfondire questo signore. Assolutamente sì, mi vengono in mente due aspetti, uno relativo all'ossidazione dei proiettili, quindi avrei voluto fare un'analisi più accurata di questi proiettili per vedere se poi si venivano ritrovate le famose tracce di zinco, calcio e silicone. E l'altro aspetto, perché la guardia giurata non riporta, come mai questo interlucutore possiede questo quantitativo di proiettili, 500, 600 cartucce, perché? Quindi sì, interessante. Ecco, io andavo a braccio, andavo a memoria, ho dimenticato questo. La guardia giurata dice, io poi ricevetti una chiamata e dovetti intervenire perché degli zingari stavano rubando i portafiori d'ottone al cimitero di Calenzano. Quindi questi portafiori d'ottone, che quasi sembrano dei giganteschi bossoli, mi sono chiesto, ma professore, lei che ne pensa? Non ho capito una cosa, scusa Emanuele. Questo succede nel luglio dell'81. Sì, questa persona va all'11 settembre dell'85 raccontando un episodio… Sì, sì, questo l'ho capito. L'episodio è accaduto nel luglio dell'81, hai detto. Eh, a quanto dice lui sì. E gli ha dato tre cartucce e lui si è tenuto queste tre cartucce. Sì. Ma sono Winchester Serie A queste cartucce? Sono delle Winchester, sono calibro 22 Long Rifle, e dopodiché noi ci siamo fatti la stessa domanda, abbiamo detto, ma han controllato se la funzionatura è BK-C121? Sì. Eh, non lo sappiamo. Ah, non si sa quindi. Tuttavia, buono. Non sappiamo neanche se esistono ancora. Ecco. Beh, senti, il soggetto interessante non è questo anonimo che non sappiamo se è mai esistito, ma è la guardia giurata. Io avrei cercato di capire di più sulla guardia giurata. Cos'è che non ti torna? C'è tutto quello che racconto è vero. Cos'è che non ti torna? Non mi torna innanzitutto che lo dice dopo quattro anni. Perché dopo quattro anni? Lo potevi dire prima. Non mi torna… quando… l'11 settembre, hai detto. L'11 settembre? Ecco, quindi all'indomani del delitto degli scoperti. Forse questo delitto, siccome ho visto all'indomani questo delitto, ci sono state veramente tante testimonianze. Come se in qualche modo si fosse svegliato un senso civico che pare che prima ci fosse stato meno. Quindi non lo so se anche lui è stato preso da questo senso civico. Però mi ricorda anche che più in là abbiamo altre cartucce lì a Pontannicche, all'ospedale di Pontannicche. Quindi ce ne saranno diverse. Un'altra verrà ritrovata poi a San Pierassiere. E ora ci sono troppe cartucce, sinceramente. E non capisco perché. Non mi tornano queste cose qui. Poi mi sembra strano che un signore, ammesso che sia vera la storia, non credo che il mostro di Firenze si metteva a vendere cartucce così in un bar. A meno che non lo doveva vedere come una sfida. Quello che è interessante però è che descrive il soggetto come potrebbe essere. Io non credo che lui avesse informazioni ad esempio su, non credo poi non lo so, sull'avvistamento del Bardazze dell'anno prima. Ah, perché ci assomiglia secondo te? Sembrerebbe. Almeno si è grandiline, eh. Grandiline. Non so se gli hanno fatto vedere degli identikit a questo signore, per cui poteva dire, sì, era questo qui, era questo qui. Oppure gli hanno chiesto un identikit. O la cosa è morta là. La cosa non è morta là. Perché ha un senso. Però anche a me... Ma questa guardia giurata, scusami, dov'è che va a fare la denuncia? Dunque, questa guardia giurata abita a Prato. E la fa a Prato? Eh sì, lui contatta il nucleo operativo dei Carabinieri di Prato. Perché anche se all'epoca Prato faceva parte della provincia di Firenze, aveva già il suo nucleo operativo. Questo lo dico perché ho visto nei commenti che qualcuno aveva detto tempo fa che Prato era sotto Firenze. Eh no, aveva il suo nucleo operativo e il comandante era appunto il tenente Fichera. Lo diciamo perché dopo il tenente Fichera diventerà generale comandante della regione Carabinieri di Toscana. Lo vedrei comunque un po'... Sì, comunque ogni informazione può essere interessante in queste... Quando non sai assolutamente niente di questo soggetto. Quindi certo avrei approfondito questo aspetto, anche se non credo che porterebbe... Forse non avrebbe portato a nulla. L'audio è disturbato, eh Vale? Eh, non lo so perché. Io non credo... Cioè, o dirò questo mente, o un mitomane, o se dice la verità... Non saprei cosa dire sinceramente, però mi pare veramente strano che un assassino così che ha appena iniziato la carriera, è vero che è il suo terzo delitto, però per l'opinione pubblica è il secondo delitto. Insomma, si fa scoprire così una persona così attenta come il mio... L'audio è molto disturbato, eh Vale? C'è sotto un... Sì, c'è un rumore di fondo. Anche voi mi sentite male, o solo tu mi senti male? Un pochettino. E non so che farci. Allora io giro intanto la domanda a Cristiana De Micheli. Sì, ma qui stiamo. Secondo te, l'uomo visto dalla guardia giurata al bar della Madonna del Gesù di Calenzano, poteva essere lo stesso nell'81? Poteva essere lo stesso visto da Bardazzi nell'84? Ma tanto come faceva notare giustamente Valerio, il problema è che questa guardia giurata l'ha detto però nell'85, per cui quando era già avvenuto l'avvistamento di Bardazzi, per cui non sappiamo se... Cioè, non abbiamo soltanto la sua parola, credo, da questo punto di vista. Quello che a me colpisce di più, devo dire, è il fatto che tu sei al lavoro, uno sconosciuto ti dà tre proiettili, tu li tieni, tra l'altro non sei nella tua macchina, sei in una macchina di servizio, cosa fai? Ti li metti in tasca, vai a casa, li tiri fuori dalla tasca, li tieni in tasca e li conservi per quattro anni, tutti e tre, perché? Cioè, è strana sta cosa. È strana. È un po' strana. Ora poi sono più magari per, cioè, senza pensare male, voglio dire, piuttosto appunto una delle tante persone che nell'ondata emotiva del delitto vogliono partecipare, in qualche modo vogliono, sì, partecipare, aiutare, anche magari non avendo nulla per aiutare, ecco. Però sinceramente non, d'altro canto appunto, sì, è sicuramente, se fosse vero, se la sua descrizione della persona fosse effettivamente così, ci sono tante, almeno tre o quattro ricorrenze di questa figura, con pressione robusta, stempiato, biondo-rossiccio, su 1,75-1,80 è una cosa che ricorre effettivamente. Certo, cioè tu dici, magari lui semplicemente era all'interno delle investigazioni locali e ha saputo dell'anno prima dell'avvistamento del Bardazzi e si è lasciato un po' condizionare, 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 certo, certo. Allora, io vi dico solamente questo, che di questo verbale qui se ne aveva una contezza limitata, perché era uno di quei famosi verbali che era reso illegibile, ed è soltanto grazie a Francesco Cappelletti che siamo recentemente riusciti a recuperare invece una copia leggibile e completa, perché avevamo una pagina sola. Ecco perché si sono aggiunti poi tutti questi particolari, quasi che qualcuno abbia voluto nascondere questa parte di storia, ovviamente non gli inquirenti, ma qualcuno che magari ha avuto la possibilità di anacquare la copia originale. È un'idea. fatto sta che in seguito a questa testimonianza, improvvisamente il brigadier Amore all'epoca e il nucleo di Prato va a perquisire vigilanti. Quindi l'int investigativo su vigilanti viene fornito proprio da questa guardia giurata che nell'85 fa questo racconto. Io purtroppo non so altro, non so se questa persona gli sono stati mostrati degli identikit, se ha riconosciuto vigilanti, ne parlavamo anche nella scorsa puntata con Francesco, quindi non ne ho idea. Ma vigilanti avevi i capelli rossicci su quant'era giovane? O non si sa? Sai, magari in quel giorno se li era tinti, provo a inventare, però dicevamo se il dottor Lucaturco avesse ritenuto interessante questa testimonianza sicuramente avrebbe, a fatto che fosse ancora in vita, convocato la guardia giurata per un confronto all'americana, come si dice. oltreoceano. Quindi è rimasta lì questa pista, non è stata approfondita. Forse perché all'epoca anche gli inquirenti è sempre stato strano che hanno messo. Io ti segnalo che l'audio è sempre disturbato sotto, hai come dell'acqua e vale? Però da casa sentono bene, ma anche qui non è malaccio, c'è un po' di eco, un po' di rimbombo, ma però va bene. Ok, grazie Dani. Prego. Continua pure, scusami, vale. Mi sfuggi cosa stavo dicendo sinceramente? Ah sì, sì, no, non mi è venuto in mente. Potrebbe essere che gli inquirenti abbiano lasciato perdere questa pista o perché hanno trovato qualcosa di più interessante, quindi sono stati distratti. A parte che non l'hanno lasciato perdere, se tu mi dici che poi sono andati sui vigilanti, non l'hanno lasciato. Però non capisco perché, come mai hanno pensato a vigilanti? In base a cosa? Perché? La perquisizione, scusami, quando a vigilanti hanno trovato tutte quelle cartucce calibro 22, perché è successo questo, giusto? È successo, però le perquisizioni a vigilanti sono più di una. Nella prima, se la memoria non mi inganna, che è del 16 di settembre, nella casa della Nile a Prato. Ma di che anno? Dello 85 sempre? Dello 85, sì, perché da lì a due giorni gli vanno subito sopra. Mi sembra che in quella perquisizione però, perdonatemi se sbaglio, non trovino le cartucce, trovino i ritagli di giornale. Poi da qui vanno a casa della madre di vigilanti che sta alle balze e lì trovano altri ritagli di giornale, eccetera. Però almeno un esame tecnico sulle cartucce andava fatto, a meno che non erano talmente differenti che non l'hanno fatto. Cioè che bastava farlo vedere a chiunque, non lo so, è avuto così. Certo, noi sappiamo che l'H, impressa sul fondello delle cartucce del mostro, ha un difetto sulla sbarretta di congiunzione delle due stanghette. Questo difetto è dato proprio dall'usura del punzone e in questo modo, con una serie di comparazioni con l'Interpol, si è potuto stabilire che quel punzone lì ha un nome che si chiama VK51. Spesso sentiamo parlare di serie H, in realtà H è stata sul fondello dei bossoli della Winchester calibro 22 per tantissimi anni, ma perché era l'H di Henry, che era il fondatore. Il punzone veniva cambiato grosso modo ogni due settimane, o meglio i punzoni, perché erano delle battiture a otto alla volta, venivano cambiati ogni due settimane, quindi i proiettili e i prodotti erano tantissimi. Dopo 5 milioni di battiture, se non ricordo male, il punzone era completamente usurato. Quindi può darsi che abbiano fatto, almeno per produttore, quantomeno fanno una perizia sui bossoli. Ma non per la storia in sé, perché se quei proiettili, come cartucce, erano compatibili con quelli dei mostri di Firenze, beh io avrei attenzionato la guardia giurata. Ma non perché poteva essere il mostro, ma poteva essere un emissario del mostro. Può darsi che il mostro l'ha mandato avanti per qualche suo scopo, per qualche sua ragione. Ora noi non facciamo il nome. Ovviamente quello che tu dici, io lo condivido al 300%, infatti è stato fatto qualche piccolo approfondimento su questa persona e la cosa strana è che questa persona che non ha origini regionali, quindi non ha le origini della regione toscana, ma è italiano, si è trasferito in Toscana molto giovane e dopodiché a un certo punto, intorno al 1968, si trasferisce in Inghilterra. Per poi tornare nuovamente in Italia, questa volta a Milano. E poi da Milano ritorna a stabilirsi definitivamente in Toscana nel 1979 dicembre, se non ricordo male. Certo, non vuol dire niente, però poi ci sono altri dettagli che non possono chiaramente essere diffusi con queste modalità, però io l'ho voluto sottoporre perché a me sembrava interessante. C'è un'altra cosa che un po' mi pare strano. Se questa persona, questo easterix, chiamiamolo così, dice a questa volta, è la sera mi sembra che glielo dice, no? All'ora è 23.30. Quindi è la sera. Forse, se fosse vera questa storia, forse avrebbe fatto la stessa proposta anche ad altre persone, se era su intenzione vendere cartucce. Però stranamente solo questa quantia giurata, ad aver fatto, no? Almeno credo, poi non lo so se ce ne sono state. Per quello che possiamo sapere, sì, non ce ne sono altre. Però strano che questo uomo, che a questo episodio gli succede proprio fra due delitti del mostro, che sono vicinissimi fra di loro, a distanza di pochissimi mesi, come mai è andato invece quattro anni dopo? Dovrà andarci subito, subito dopo il delitto di Calenzano. Io, ecco, la penso sempre come te. Cioè, avendo ricevuto questi proiettili a Travalle, a luglio, se dopo tre mesi a Travalle succede un altro delitto del mostro, e tu che fai? Ti tieni le tre cartucce compatibili con la serie nel cassetto? Più che guardia giurata, consentimi un attimo se è una guardia sciagurata. Sì, però ti fa… ora, volendo fare un po' di… insomma, volendo ragionarci un po' sopra, ma giusto così, eh, se tu lo fai quattro anni dopo, potrei anche pensare in qualche modo che tu magari riconosci questo soggetto, magari sai che è l'assassino e in qualche modo stai attuando una forma di ritorzione, o di vendetta, o di ricatto, o di qualsiasi altra cosa, non ti sta riuscendo e poi magari ti ritiri. Potrei pensare a qualsiasi cosa, sempre che, ripeto, almeno le cartucce siano compatibili. Certo. Se dovessi che lui ti stia raccontando una storia, ma in realtà te ne sta raccontando un'altra. Certo. C'è un particolare che io mi permetto di aggiungere. Il fatto che questa persona, l'11 settembre del 1985, dichiari ed esibisca tre cartucce inesplose, calibro 22 long rifle, ossidate. Quando noi sappiamo che di tutti i 51 bossoli ritrovati sulle scene del crimine, soltanto gli ultimi nove presentavano forme di ossidazione e di alterazione cromatica e superficiale tali da. Quindi anche qui sembra che sia stato in qualche modo imboccato, cioè che abbia saputo che le ultime nove, gli ultimi nove bossoli trovati a Scopeti avevano il fondello sporco. E quindi lui ti porta tre bossoli col fondello sporco, tre cartucce col fondello sporco, con la cartuccia sporca. Però mi sembra strano che già l'11 settembre si erano già state fatte queste… Allora, Vigna se ne accorse subito. Vigna quando le prese in mano disse, cos'è sta roba bianca? Fate l'esame merceologico. Quindi vuol dire che questa patina bianca che c'era sul fondello doveva essere abbondantemente visibile a occhio nudo. E ma Vigna quanto le vede? Le vede subito? Le vede il 9, il 10, l'11, il 20? Questo te lo posso verificare perché abbiamo la richiesta di accertamento merceologico sui bossoli di Scopeti che se non erro è del 10 di settembre. Però, correggetemi se sbaglio. Però l'ossidazione può darsi se la storia… Poi non che sia vera questa storia, ma che non ha niente a che vedere con l'ossidazione. Hai trovato questo qui che dice di avere tutte queste cartucce. Tre gliele regalate, se ho capito bene, no? Queste tre gliele ha regalate. Gliele ha regalate. Ecco, magari in quattro anni è stata la guardia giurata a farle ossidare. No, perché la guardia giurata dice, mi ha dato tre cartucce in prova che erano ossidate. Ah, lo dice lui. Quindi dice che erano giosti dati al momento in cui gliela dare. Se dobbiamo interpretare… Ho capito. No, non ho capito questo passaggio. Ma Emanuele, mi sorge un dubbio però, no? Gli ha dato tre cartucce in prova. Ma allora vuol dire che gli ha lasciato un contatto a questa guardia giurata? Un telefono, un qualcosa? Eh, questo è un altro bel quesito. Eh, cioè, ti lascio una cosa in prova, vuol dire che poi mi chiami e mi dici che guarda, mi vanno bene, te le compro. Eh, certo, è plausibile. Magari il maresciallo amore che ci ascolta, se ci vuole chiamare e dare qualche altro particolare, ci chiarisce anche questo dubbio. Non sarebbe male. Noi ecco, ci limitiamo a riportare fatti di cronaca, no? Che hanno interesse del cittadino. Certo. Dopo, se abbiamo letto male o preinteso, chiediamo scusa e facciamo una correzione. Però, a quanto pare, questi sono i fatti che vengono narrati in questo processo verbale dell'11 settembre 1985. A questo punto, se voi siete d'accordo, io chiuderei questo argomento, anche perché poi il nostro scopo è quello di andare a rivisitare tutti quegli aspetti che possono essere stati tralasciati durante le indagini, che sono di interesse per il cittadino, che sono di grande interesse per gli appassionati del caso e che magari, lo diciamo così, senza voler essere presuntuosi, ma perché la mole di carta è talmente tanta, magari anche il magistrato, che il dottor turco, che si occupa del caso, magari dice, ma approfondiamo questo aspetto. Ripeto, non perché lui abbia bisogno che qualcuno glielo dica, ma perché nella mole di documenti magari sono talmente tanti che qualcosa è passato, dimenticato, ecco così. Però c'è anche un altro aspetto molto interessante ed è una segnalazione molto, molto, molto strana, che avviene anche questa tra l'11 e il 12 di settembre. Ora, questa è una segnalazione di cui si è sentito molto parlare, è una segnalazione sotto forma questa volta di lettera anonima, tanto per cambiare, è una lettera anonima che viene battuta a macchina, è una lettera anonima alla quale viene allegato un identikit, che è sicuramente l'identikit più famoso del mostro di Firenze e che viene spedita da Firenze l'11 di settembre a tre diverse testate giornalistiche, alla Nazione, a Paese Sera e la città. Ora, la cosa singolare è che ci sono degli aspetti che poi sarete voi a giudicare, però così, quando si capitò da queste parti ci sembrò interessante. Ora, abbiamo chiesto il permesso ovviamente a Francesco di leggere questa lettera, perché arriva dal suo archivio e il contenuto, come dire, è riservato, era riservato. Quindi Lisa, se ci vuoi leggere questa lettera, e viene, ripetiamo, battuta a macchina in triplice copia e spedita da Firenze l'11 settembre e consegnata il 12 alle tre testate con allegato un identikit. Ebbene, Lisa, se vuoi. Volentieri. Firenze, 11 settembre 1985. Al direttore del quotidiano La Nazione, Firenze. Al direttore del quotidiano La Città, Firenze. Al direttore del quotidiano Paese Sera, Firenze. Comunicazione. Nel pomeriggio di domenica 8 settembre 1985, verso le ore 19, mi trovavo con mia moglie nei pressi della località che poi risultò essere quella del duplice omicidio. Ritornavamo da una passeggiata e nel rincasare passamo con la nostra auto da San Casciano, scendendo da Spedaletto lungo la strada di Sant'Andrea. Mi sono portato sullo spiazzo dello Scopeto. Abbiamo visto la tenda sullo spiazzo e la Golf Bianca, senza però notare che era straniera. Ho fermato l'auto e ho visto queste cose. A circa due metri dall'auto Golf Bianca c'era un uomo, alto, vestito con un giubbotto da cacciatore di tela verde scuro, senza maniche, che guardava verso la tenda. Lo vedevo bene di profilo, ho pensato che fosse l'occupante dell'auto bianca. Non era così, infatti, quando ci ha sentiti, si è voltato di scatto e l'ho visto bene in faccia. Si è affrettato verso dei cespugli di fronte e non lo abbiamo più visto. Ho detto a mia moglie, quello è un guardone di certo, hai visto che faccia? Andiamocene. Ebbene, quell'uomo poteva essere l'assassino che era venuto per controllare gli occupanti della tenda. Fornisco i particolari, che ricordo perfettamente, alto circa 1,80 m, di circa 45-50 anni, leggermente curvo sulle spalle, di complessione robusta, con naso, direi, aquilino, sopracciglia folte, capelli corti sul castano. L'espressione del volto e lineamenti mi hanno colpito. Ho cercato di farne un disegno di profilo e lo accludo, ed è proprio somigliante all'uomo che abbiamo visto. Aggiungo che ha gli avambracci abbastanza robusti e mi è sembrato un po' pesante nei fianchi. Si è però mosso con rapidità quando è sparito nei cespugli. Lo sguardo era come di persona sorpresa che non voleva farsi vedere. Spero che questi elementi possano essere di aiuto alle indagini. Non firmo questa mia dichiarazione per ragioni comprensibili di prudenza, almeno per me, ma assicuro che quanto da me scritto risponde a verità. Del disegno ho fatto tre fotocopie che fanno risultare meglio lineamenti. Non deve far meravigliare lo schizzo del profilo da me fatto, che è somigliantissimo, in quanto sono disegnatore e pittore anche di ritratti. Che ne pensate? Che ne pensi, Cristiano? Diciamo che sicuramente in quei giorni, in quel fine settimana, mi sembra che comunque gli avvistamenti di persone in quella zona lì abbondino, o nella piazzola, o a bordo strada, o nella stradello, quindi poi chiaramente c'è il fatto della domenica pomeriggio, chiaramente non… vabbè, ora mi sentite? Sì, io sì, però mi ho perso tutto. Il video è sparito, vi sentiamo ma non vi vediamo. Non ci vedete, bene. Stanissimo. Comunque, vi sentiamo, andate avanti. Eccoci, eccoci. Ok, eccoci qua. Ok, quindi niente, vabbè, ora poi senza anche entrare nella solitannosa questione, era domenica pomeriggio, quindi è delitto avvenuto, è delitto ancora ad avvenire, questo vabbè, chi lo sa. Sicuramente appunto sappiamo che era una zona quella di Guardoni, una tenda sicuramente avrebbe attirato, comunque immagino… io ho anche una mia idea ovviamente che può spiegare un pochettino tutti questi avvistamenti particolari nella zona in quel fine settimana, ne avevamo già accennato, nel senso che nell'ipotesi in cui il delitto non sia avvenuto domenica notte, ma qualche notte, insomma, la notte del sabato, la notte del venerdì, chiaramente. C'è anche la possibilità, comunque, secondo me, che si sia verificato una sorta… i giornali parlavano nei giorni successivi di turismo dell'orrore, no? a delitto avvenuto e pubblico… cioè, diciamo, di cui si era data informazione, secondo me c'è anche la possibilità che ci sia stato una sorta di turismo dell'orrore prima della scoperta ufficiale del delitto, per cui, diciamo, magari qualche guardone ha scoperto questa cosa, insomma, era una cosa importante, venite a vedere, il nuovo delitto è il mostro di Firenze, andiamo a vedere, magari qualcuno andava anche a frugare se c'era qualcosa da prendere, insomma, via vai si può spiegare in tante maniere, secondo me, dalle più innocenti alle più morbose, nello specifico di questa lettera, diciamo, di questa lettera di questi denti, da quanto mi risulta non assomiglia a nessuno, a nessuno, questo profilo non assomiglia nessun'altra identificazione, nessun'altra persona vista, sospetta, nei vari delitti, è una cosa, è un po' un unicum questo profilo, vi risulta? Non ci sono riscontri… Purtroppo noi siamo riusciti a identificare questa persona, credo anche gli inquirenti all'epoca… Ok, ora sto prolettando l'identikit alle mie spalle… Sì, sì sì, quindi è stata chiaramente immagino attenzionata comunque la persona… direi abbondantemente ascoltata e perquisita e torchiata… Scusa Emanuele, poi dico la mia su queste lettere… quindi gli hanno chiesto se era… se poteva essere stato sulla piazzola oppure no? Sì… E cosa ha risposto? No, ovviamente… Ha risposto sì… Il sabato però… Ah, quindi l'avvistamento era reale? No… Gli ha scritto queste lettere? No? No… E qui infatti noi volevamo il criminologo, perché qui iniziano gli imbrogli, cioè gli imbrogli nel senso… gli ingarbugli, perché questo signore di cui noi non conosciamo niente, sappiamo soltanto a quanto dice, dichiara lui, fa il disegnatore, però noi abbiamo dei marker nella sua scrittura… Eh, infatti ora quel cuore lì ti volevo arrivare… innanzitutto se posso fare qualche domanda, a meno che non hai tu da dire qualcosa… No, no… Allora quello che ci ha letto Lisa, perché dice al direttore… qual erano i giornali scusami? La città… La nazione, la città e paese sera… Ma quando tu hai letto la lettera al direttore della… ma era… sono tre lettere di stile… Così? No… sono la stessa lettera che ha questa intestazione… A tutte e tre… Io ho letto pari pari la lettera a partire dal luogo, Firenze, DASA, al direttore… che è venuto tre volte… Quindi dai tre direttori di giornali è arrivato alla stessa lettera… Quindi scusate, sono coppie carbone… non ha affatto tre… Beh… A qualcuno è venuto di mettere il ciclostile, la carta di riso, la carta da luogo… insomma… Non lo sappiamo… Ebbene, questo non lo possiamo sapere, no? È chiaro… Comunque mi sembra che scrivo in un buon italiano, se non erro… se… se… non credo che abbia corretto… non avete corretto, no? Allora, in realtà degli errori ci sono… e c'è un lapsus molto carino… perché lui invece… carino, insomma… se così si può dire… perché lui dice mi trovavo con mia moglie… ma in realtà scrive mi trovano… e poi a parte qualche errore… tipo ci sono delle scambi di lettere… la battitura è caratteristica… si potrebbe risalire a qual c'è una macchina da scrivere perché ci sono delle lettere rotte… Non diciamo quali… No… però… allora… ti dico un po' le mie riflessioni… intanto… se stai tornando da una passeggiata alle 19… come mai ti fermi nella piazzola degli scopeti… ma non solo ti fermi sulla strada… ma entri nella piazzola e vai fino in fondo a quello che è il tratturo… per cui forse mi viene da dire che lui non è in realtà lì con la moglie… potrebbe a sua volta essere una persona che va a fare il guardone… a guardare… questa è stata la prima… lui tra l'altro è in auto… quindi dall'auto vede benissimo questo soggetto… lo sa descrivere… lo disegna di profilo… ma in realtà dice di averlo visto molto bene di fronte… quindi mi chiedo perché fa il profilo e non… comunque… questo si può anche accettare… diciamo… ci sono dei termini particolari che lui usa… ora… io sono fissata sulla lettera ABB del 74… quindi aver trovato come partenza un ebbene che Sant'Andrea prima scherzosamente sottolineava… ah ce l'è bene anche qui… sì… sì… ma te lo sai ora… ti piace fare l'imbeccata… quindi ti conosco… e poi alcuni termini… cioè… dire di complessione robusta… complessione… ora… sinceramente io avrei usato un altro termine… si… ma avrei scritto corporatura… non complessione… e poi accludo il disegno… io avrei detto allego… però quello che… ci sono dei modi di scrivere in queste lettere anonime… che sono particolari… e tra l'altro… per come è impostata questa… sul finale… quello che mi… mi ha acceso l'attenzione è stato… che conclude proprio come la lettera BB… cioè… per ragioni comprensibili di prudenza… però non posso dire niente… perché altrimenti… quindi… ti viene in mente… ma allora forse non eri lì con la moglie… ma allora forse… prudenza per cosa… che rischio corri… perché devi dirlo… e poi… il fatto che lui dia per scontato… che l'identikit è somigliantissimo… somigliantissimo a chi… cioè… quindi è una lettera molto interessante per me… molto curiosa… tu stai dicendo… la lettera anonima… la famosa BB Firenze… sì… anche quella… questa mi ricorda alcuni aspetti… ricordiamolo ai nostri telespettatori… che magari non hanno visto la puntata sul 74… quindi la famosa lettera anonima BB 74… quella scritta il giorno dopo il delitto del 74 da Firenze… e quella scritta praticamente il giorno dopo il delitto degli scopeti… tu dici… hanno delle similitudini… la prima similitudine è che sono entrambe battute a macchina… ad esempio… lo possiamo dire no… la seconda similitudine è che una è scritta… l'ultima in triplice copia… ma non sappiamo se è fotocopiata… cioè… quella precedente è scritta su carta di riso… quindi vuol dire che è stata scritta… ora lo possiamo iniziare a dire… su un supporto cartaceo particolare… che serviva per fare delle copie… quindi vuol dire che esiste anche un originale… prima Cristiano diceva… diceva la carta carbone… no… e questa è… siamo lì… lo scopo è sempre quello… poi tu dici… c'è un'altra parola particolare che questa persona utilizza… quindi… diciamo nella forma abbiamo la lettera… sì… battuta a macchina… sì… probabilmente delle copie… sì… poi abbiamo una parola in particolare… ebbene… ebbene… virgola… poi però abbiamo una serie di circostanze che sono… io ero con la mia fidanzata nel 74… come nella BP… io ero con mia moglie… nell'85… io ero in macchina… e ho visto un guardone con mia moglie… con la mia fidanzata… questo guardone te lo descrivo… ecco come è fatto… questa volta ti faccio anche lo schizzo… i tempi… quindi non faccio passare quattro anni come la guardia giurata… no… il giorno dopo già scrivo a macchina la lettera… la imbuco prima della levata e la spedisco… e poi c'è la scelta di un registro che non è colloquiale… ma è sicuramente forbito… abbinato però a una serie di errori… di grammatica… di sintassi… diciamo… non si offenda il signor GB… a livello di terza elementare… quindi in qualche modo sembrerebbe però che questa persona… abbia avuto un'istruzione tutto sommato di base molto scarsa… ma che poi abbia avuto accesso a percorsi di studio agevolati… che gli hanno permesso di acquisire un linguaggio… anche di un certo livello… quando tu utilizzavi quei due termini… che se gentilmente me li ricordi… non sono alla portata di tutti… complessione… complessione… accludo… a me è venuto in mente un medico… professore… lei che è medico… può averla scritta un medico magari… certo… può essere… che ha avuto un'infanzia triste… difficile… povera… e poi a un certo punto ha deciso di mettersi… ha deciso di mettersi… un medico senza sapere che… che infanzia abbia avuto… no… nel senso… e poi… come dire… dopo ha deciso di mettersi a studiare… chiaramente rimangono alcune tare… quindi… commette alcuni errori di ortografia… che un medico… lo sappiamo… non commetterebbe mai… però… però mi viene in mente una cosa… eh… volendo fare un parallelo… anche Zodiac commette degli errori voluti… nelle sue lettere… quindi può sembrare qualcosa di voluto… tu pensi… oppure può essere un errore di battitura… ma questo… ma… semmai ti volevo fare una domanda prima… nello 74… a chi arriva questa lettera non? ai carabinieri di Borgo… direttamente ai carabinieri… invece in questo caso… viene indirizzata a dei giornali… e questo… mi pare strano… perché la indirizia dei giornali… perché i carabinieri non l'ascoltano più… oh scusami… non volevo… può darsi… ma… perché tu pensi siano la stessa persona comunque… no… io in questo caso non penso… non possiamo… però… allora… il fatto che… scriva dei giornali… è strano… però che scriva tre giornali… mi ricorda poi tre lettere che arrivano a tre magistrati… subito dopo… quindi scritta a macchina anche quella… più o meno scritta allo stesso modo… solo che… in quel caso… dei carabinieri… scusate… dei magistrati… infatti… ovviamente… ogni intestazione è a sé… professore… subito accolto… un po' me lo ricorda… della logia… della trilogia… però una cosa… vale… perché tu mi stai dicendo che questo incontro… potrebbe essere davvero avvenuto… allora ti dico un'altra cosa… io… ammesso che io fossi il mostro… e… magari ti dico che… questo è avvenuto l'otto… domenica 8… magari in realtà è avvenuto sabato… ma è perché io voglio sapere chi è questa persona… sono io interessato a sapere chi è questa persona… perché questa persona può aver visto me… quindi lo faccio uscire allo scoperto… forse io… ho bisogno di sapere chi sia… se… ha scritto davvero il mostro… questo… questo è il mostro… certo… è un modo per cercare la notizia… certo… c'è un particolare… e poi faccio… e poi andiamo avanti… che in tutte queste quattro lettere… quindi le tre lettere ai magistrati che tu hai menzionato… e nelle tre lettere… quindi sono sei… scusate… tre più tre… la parola Firenze… se ricordo bene… è sottolineata… sull'indirizzo della busta… e questa persona spedisce compilando correttamente l'indirizzo… quindi il codice… qui è… è sottolineata… sì… dicevo… in queste sei lettere… in queste sei buste… la parola Firenze è sottolineata… ed è sottolineata però in una maniera molto strana… che a un certo punto sborda… come se questa persona avesse battuto il tasto sottolineatura più volte… ma senza una… come una sorta di frenesia… e quindi… gli viene una volta lungo il doppio… una volta lungo… una volta e mezza… e… scusa Emanuele… la sottolineatura però mi pare che in quegli anni la facessero in molti… eh… non era una cosa inusuale… però… non è allineata alla parola Firenze… in tutte… in tutte le buste… in tutte le buste… è più lunga della parola Firenze… e la spaziatura tra le lettere della parola Firenze… non è sempre la stessa… ma… e gli errori… i difetti della macchina da scrivere sono… Ci sono altri, ci sono dei difetti sulla macchina da scrivere, questi difetti che non diciamo ovviamente quali sono, non diciamo quali sono e quindi non diciamo quali sono. Il fatto della moglie che tu, insomma con tua moglie vai alle 19 di sera, io potrei spiegarmi in un altro modo, potrei spiegarmi che la signora, lui hanno un bisogno fisiologico e quindi vanno lì, è casualmente… Basta dirlo però, basta dirlo, siamo andati là per far pipì. Vabbè ma mai nella lettera non te ne importa. Magari sono male. Eh, sono male. Sono male. Però voglio dire che il senso ha che tu mi hai tutti questi particolari, perché mi devi dire niente? Mi dici che hai visto, perché mi devi sottolineare che c'era un'altra persona con me? Sembra quasi per rendere più credibile la storia, non ero da solo, c'era anche mia moglie, come se per dire mi sono consultata con mia moglie, forse vuole dare più credibilità, oppure forse la lettera non è mai stata pubblicata, giusto? La lettera non è mai stata pubblicata, il testo l'abbiamo letto noi questa sera, c'erano dei frammenti in giro comunque. All'epoca c'erano dei frammenti in giro e riuscite? No, all'epoca no. E come mai nessuno di questi tre giornali ha pubblicato questa lettera? Hanno avuto un dibieto? Oppure è stato in questo caso un senso civico loro? Perché l'identikit era talmente somigliante che gli inquirenti sono andati quasi a colpo sicuro sulla persona. Sì, però, quindi vuol dire che i giornali hanno consegnato ai carabinieri, insomma agli inquirenti, tutte e tre i giornali, sembra che si siano messi d'accordo fra di loro. Io adesso questo, cioè che cosa abbia fatto Maggi con gli altri due, non lo so, però tutti i tre giornali pubblicano l'identikit. Ah, quindi l'identikit lo pubblicano loro? L'identikit, ora non vorrei dare una, mi sembra che lo pubblicano qualche giorno dopo, probabilmente danno il tempo agli inquirenti di approfondire questa persona, perché qui c'è il maresciallo di San Casciano che quando vede questi identikit dice, ma io questo lo conosco. No, sai cos'è il mio dubbio Emanuele? La lettera è scritta a tre direttori di giornali, ma arriva a tre direttori di giornali o arriva a uno solo? Abbiamo tre lettere? E sono tre lettere distinte? Ho solo un'intestazione, cioè nel senso io lo mando a quello della nazione, ma non lo mando né alla città né a Paese Sera, invece sono arrivati a tutti e tre i giornali. Allora, io ti do, è una domanda interessante la tua, ti rispondo che io ho visto quella inviata a Paese Sera. Immaginerei che anche alle altre due testate la lettera sia arrivata. Allora, come mai proprio a questi tre? Uno è la nazione, la nazione e la città sono tutte e due differenze se non sbaglio, no? Sì, anche Paese Sera, via Borgopinti 33. Ah, quindi era l'edizione fiorentina di Paese Sera allora, è arrivata nella redazione fiorentina di Paese Sera, ho capito bene, non a Roma, perché Paese Sera o un giorno di Roma? Io ho la fotografia della busta che conteneva la lettera, è al direttore del quotidiano Paese Sera, via Borgopinti 33, 50-121 Firenze, con la sottolineatura di cui parlava prima Emanuele. Allora, Paese Sera era un giornale di Roma, era un giornale di Roma, non era un giornale di Firenze. Ma il direttore non so se fosse di Firenze, il direttore, chi era il direttore, scusami, all'epoca? Questo io non ce l'ho scritto lì. No, no, lui mette genericamente al direttore del quotidiano. Allora, non so come mai l'abbiamo andato proprio al direttore di Paese Sera, a meno che Paese Sera è un giornale di Roma, ma il direttore è di Firenze e quindi lui l'hanno andato non alla redazione di Paese Sera, ma direttamente al direttore. L'intestazione è sempre al direttore, sì. Sì, ma forse… Faccio una domanda a Bruciapelle e a Di Bernardo, ma Di Bernardo, secondo te che tu fai il disegnatore da un paio di mesi, questo signore che fa questo ritratto è bravo oppure no? Se ci vuoi rispondere, so che ci ascolti. Scusami Vale se ti ho interrotto. No, niente, facevo solo queste considerazioni strane, insomma, che abbiamo andato a un direttore di Roma, potremmo andato al Corriere della Sera, alla stampa, no, l'ho mandato al direttore di Paese Sera e quindi vorrei sapere se l'indirizzo di Firenze corrisponde alla redazione fiorentina di Paese Sera o proprio del direttore di Paese Sera. In ogni caso è strano, è strano, perché poteva mandare tre lettere anonime ai giornali e una anche ai Carabinieri, invece non lo fa proprio, o almeno che noi non sappiamo se lo fa o se non lo fa. A quanto pare no, come dicevo prima io, magari si è stufato. Sì, però ci provi lo stesso, no? Eh, ma sai, forse generi più allarme sociali se a questo punto tu li scavalchi e vai alla stampa. Volevo arrivare ad un altro punto, Emanuele. Se io sono un cittadino, perché scrivo ai giornali, scrivo ai Carabinieri? Perché devo scrivere ai giornali? A tre giornali. Ma è una domanda che fai a me? Sì, una domanda che faccio a tutti. Perché è una domanda che si è stufato di scrivere ai Carabinieri? Ma tu dici si è stufato perché Udeghara l'ha già fatto, quindi tu stai dicendo che questo signore l'ha già fatto, ha scritto ai Carabinieri, perché tu lo colleghi a 74? No, assolutamente, io non lo so, però l'interpretazione, proprio perché utilizza un canale che non è quello consono, ma è quello mediatico, quindi non è quello investigativo, ma è mediatico, vuole un'interpretazione del suo metalinguaggio che vuole farsi ascoltare, vuole parlare Gli altri non lo ascoltano più, l'errore secondo me, l'errore della lettera, forse quello è un riscontro suo, è come una cartina torna sola per vedere se la lettera in qualche modo è stata corretta, non è stata corretta, l'hanno mandata così com'è, forse quello serve a lui, se l'avessero mai pubblicata, per vedere se è incredibile, non lo so, però questo già è un elemento più strano rispetto a quell'altro, perché tu mi stai dicendo che la storia è vera, la storia che racconta questo signore è vera. perché a un certo punto i carabinieri di San Casciano identificano la persona ritratta nell'identikit, appunto, e vanno a trovarlo e gli chiedono, signor, come lo vogliamo chiamare, signore dell'identikit, lei andava a scopeti? E lui risponde sì, e che andava a fare? Ora, senza entrare in aspetti intimi, della sfera intima della persona, questo signore ci racconta che siccome, pur essendo, diciamo, diciamo che fa il guardone, e siccome ovviamente è ancora nel fiore degli anni, per così dire, questa carica erotica, sono anche altri tempi, quindi non ci sono magari, essendo sposato con dei figli, insomma, lui scarica questa sua carica in questo modo, tant'è che questa sua attività gli ha valso il soprannome, poco edificante, ma comunque è un soprannome di un certo peso, di Sege Sege. Ah, questo è il famoso Sege Sege. Sì, possiamo immaginare che o ha a che fare con una falegnameria, oppure con una pescheria, perché ci sono anche i pesci Sege, oppure con qualcosa che noi non conosciamo. Allora ti dico io come la penso, ora così, eh? Ora lui confessa e dice, io ero lì, ma sapete quando ero lì? Ero lì sabato, non domenica, non domenica 19, ero lì sabato. Però domenica 19 c'è la Carmignani che ce lo mette, anche Carmignani parla di Sege Sege, che parla di domenica. E la Carmignani lo chiama così. Quindi doveva essere un personaggio noto. Diciamo che era un personaggio noto e che ci poi fornisce anche… Però io sai come la posso vedere, Emanuele? Fornisce anche un elenco dei guardoni della zona. Però la posso vedere anche in questo modo. Che l'incontro fra questo signore, perché sa disegnare secondo me, lo potrei vedere anche come uno che è andato lì con la fidanzata, si è trovato questo qui più di una volta, e allora a volerlo sputtanare a livello nazionale, lo collega al delitto del mostro, pubblicano la foto, è una forma di vendetta. Tu volevi essere anonimo, io ti sputtano su tutti i giornali d'Italia. Quindi può essere che sia la vendetta di una coppia. La vendetta di una coppia. Ed è una bella vendetta. Un tentativo di vendetta, che poi non è andato in porto. No, hai detto che è stato pubblicato. Quindi sapeva benissimo chi era. Chi è che ha scritto la lettera e ha fatto il disegno? Sapeva benissimo chi era, l'ha visto più di una volta. Ok, quindi il tuo costrutto è questo. Potrebbe essere. Certo, però io a questo punto vi devo dire quello che succede dopo. Ah, beh, non lo so che succede dopo. Succede che il nostro amico che chiamiamo simpaticamente Se, giusto per non usare tutto il nome che mi sembra lungo, il signor Se dice, io non ero lì alla domenica, io ero lì ma al sabato. Quindi ovviamente noi dobbiamo prendere per buono quello che ci sta dicendo, perché comunque si autocolloca sulla scena di un crimine. E dice, sì sì è vero, io ho visto la tenda, ho visto la macchina, ero con il mio motorino azzurro celeste, e mentre ero lì ho visto parcheggiata oltre alla Golf Bianca dei francesi un'auto bianca, una Fiat 126, con a bordo un signore stempiato, robusto, con lo sguardo minaccioso. Quando l'aveva visto lui questo sabato? Sabato mattina alle 10 e 15. Quindi il signor Se non smentisce totalmente il disegnatore, dice io ero lì, ma non ero, quindi addirittura forse peggiora le cose, perché dice io non ero lì alla domenica sera, quindi come tra virgolette guardone, ma ero lì il sabato mattina alle 10 e 15, ed ero lì con il mio motorino celeste, e ho visto un tale, quella 126 bianca, parcheggiato che guardava fisso. Ma scusa, ma questo con la 126 bianca non poteva essere l'agente della Degos? E dopo ci arriviamo? Potrebbe essere lui, che parla tra l'altro di questo qui, non so che macchina avesse però. Dopo ci arriviamo, però tu hai toccato un tasto piccantissimo. Ma io vorrei fare un attimo un passo indietro con una cosa che non mi torna tanto, perché ci poteva anche stare che questo signor Se fosse stato sabato invece che domenica, ma perché l'autore della lettera anonima avrebbe ammesso che abbia mentito? Insomma, perché scrive che l'ha visto comunque al pomeriggio, giusto? Al pomeriggio di domenica alle 19. Ecco, quindi è verso sera, e invece il signor Se comunque dice, sì, sono stato però il giorno prima eppure di mattina. Cioè, se comunque scrivi una lettera anonima che non è ricondicibile a te, cioè dovrei, almeno come cosa oraria, perché non scrivere la verità, voglio dire? Ma forse affuggerei quello che diceva Valerio. che aveva deciso di sputtanarlo, scusate il termine francese, perché dice ogni volta che vado lì con la mia fidanzata c'è questo qui che si mette là e ci spia, adesso io anche se non ero lì quel weekend, scrivo che ero lì e che l'ho visto. Così gli mettono la foto sul giornale. Questo dicevi, no Vale? Sì, dicevo questo. Però la moglie. A meno che c'era anche, stavo pensando un'altra cosa in realtà, cioè, a meno che questo avvistamento non sia reale, diciamo, e il signor sia stato sia sabato mattino che domenica sera, e non abbia voluto dire di domenica sera, perché domenica sera c'erano già i cadaveri, e abbia detto soltanto sabato mattina, che non era tutto sommato una così incriminante, ammetterlo, era una mezza missione, diciamo. Ma io penso che sabato mattino dovesse dirlo per forza, perché lui non sa chi è che l'ha segnalato, però ha visto che qualcuno l'ha visto, e quindi non può dire di non esserci stato, lo deve dire per forza. Poi ripeto... Quindi voi dite... E poi credo che i carabinieri di San Cascano sapevano, non è che non avevano bisogno di Nel della Carmignani, Nel di un soggetto anonimo, io penso che conoscessero benissimo il soggetto. Ho capito. Però la cosa strana qual è? Adesso ditemi se andiamo troppo veloci, o se facciamo, o se sto facendo confusione. Noi abbiamo uno scrittore che manda, scusate, un disegnatore che dice io ho visto, ero lì, ho visto questo signore, i carabinieri identificano il signore, e gli dicono tu eri lì? Sì, ero lì, ma non quel giorno, che dice lo scrittore, non era la domenica, ero lì al sabato, e gli dicono hai visto il disegnatore con la moglie? No, ho visto un signore robusto che fissava questa tenda che era all'interno della sua autovettura una Fiat 126, bianca, grosso, robusto. Ora la cosa interessante è che dice di circa 55 anni, quindi quest'uomo non può essere Iacovaci, Iacovaci non ha 55 anni, ne ha 85. Allora che succederà poi dopo? Non lo dico, ma tanto è plausibile. Ma si sa che macchina avesse questo Iacovaci. Eh. Il fatto è unico che abbia 55 anni, io non so quanti anni avesse Iacovaci, ma è un testimone, quindi portarsi che lui abbia dato 55 anni, è un uomo di 40 anni. Io non lo so, non ho l'idea, non so che faccia. Il problema qual è? Che il testimone in questo caso, dieci anni dopo, o meglio questo signore, questo Iacovaci, dirà di essersi trovato quel sabato mattina agli scopeti e di aver visto un signore col motorino azzurro che era Pacciani. Ma il signore col motorino azzurro, noi lo sappiamo dal verbale dell'85, che non è Pacciani, è il signor Se. E' lui a dircelo. Però, in aula, questo non si spiega, nessuno controbatte, facendo notare, guardi che, già sappiamo chi era il signore, ce l'ha detto lui stesso, perché a sua volta è stato visto dal ritrattista. Questo però fa pensare a un'altra cosa Emanuele, a margine di quello che stiamo dicendo, che Iacovaci era, sono convinto che fosse in buona fede, quando ha pensato che fosse Pacciani. Perché Pacciani era sui giornali, quindi magari ha fatto... Però Iacovaci all'epoca aveva 27 anni. Ah, era giovanissimo. Insomma, sembrava di 55, tu dici se li porta male... No, 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 io non sapevo che era 40, 42, non ho idea, non sapevo che ne avessero... Edoardo Iacovaci ha quell'età lì. No, beh, ma che macchina vera. Questo è il punto. Perché Iacovaci non vede una 126, con un uomo, e poi, l'orario mi sembra compatibile con quello di Iacovaci, tra l'altro. Sì, no, Iacovaci dovrebbe essere lui quello della 126, per far combaciare la storia. Appunto, è quello che sto dicendo io. Scusami allora. Eh, ma non glielo chiedono, perché in questo gioco degli scambi la confusione ha successo. Però se Iacovaci avesse avuto una 126 bianca, bianca ha detto giusto, l'ho capito male. Bianca, bianca esattamente come quella di Giogoli. Eh, va bene, ma se Iacovaci c'è una 126 bianca, lui può dire pure che ne aveva 80 anni, però una 126 bianca, c'è Iacovaci della mattina, devo pensare a due 126 bianche. Eh, lo so, ma non glielo chiedono. Eh, ma noi sappiamo oggi se Iacovaci all'epoca, no, nessuno gliel'ha mai chiesto. Che macchina aveva mai chiesto? Nessuno gliel'ha mai chiesto. Eh, però bastava chiesto, magari questa 126, niente, a me non sapevamo a che appartenevo. Sono d'accordo con te, mi hai già convinto. Io... Sai cose che non mi torna, Emanuele? Se questo ser-se, chiamiamolo così, il signor Se, dice che quella mattina, quando lo dice poi? Subito, no? Settembre, non è che lo dicevo il giorno 16, se non dico giusto, 16. 16. Il giorno 16, questo può fare confusione lui fra la macchina e una persona. Può ricordare in qualche modo perché voglio dire che Iacovacci abbia visto questa persona lo sappiamo per certo. No? Iacovacci lo va a testimoniare dieci anni dopo. Ma non scrive una lettera, scusami, non fa una... Non c'è quella lettera. Come non c'è quella lettera? Non c'è traccia di quella lettera. Ma lui non dice di aver scritto subito la lettera dopo... Sì, lui dice di averla scritto subito, ma di questa lettera non c'è traccia. Ah, quindi... Ah, e questo Iacovacci esce così dieci anni dopo? Eh, apparentemente, sì. Apparentemente, poi... Ma non c'è traccia perché l'hanno persa o perché è dimostrato che non l'ha mai mandata? No, perché egli dice, adesso mi perdonerà se gli sto mettendo in bocca delle parole che non ha mai detto, di aver scritto questa lettera e di averla data al suo caposezione. Il suo caposezione dopodiché l'ha lasciata nel cassetto. Quindi questa lettera si è fermata lì. Però, anche se si è fermata lì, lui lo dice... Però lui aveva una copia della lettera. Beh, sai, la copia... Anch'io posso scrivere oggi una lettera che l'ho scritta in quinta elementare. Sì, certo, ma non vedo il motivo proprio che avrebbe dovuto fare una cosa leggera, però ti dà informazioni esatte. Cioè, il motorino celeste, questo signore che comunque c'era, lo dice lui che c'era. Allora, come mai questo signore vede questo 1926 e non vede Giacovacci. O Giacovacci non c'è mai stato, allora è Giacovacci che mente, ma non vedo perché dovrebbe mentire. Oppure non sta mentendo nell'una e nell'altra. Solo che uno ti dice che ha 55 anni perché forse confonte la macchina con un altro ricordo. non lo so, non lo so, non so se uno che beveva o uno che non beveva, una persona lucida. direi dalla tipologia e il suo punto di ristoro era la cantinetta di San Casciano che mi penserei. possiamo non essere lucido la mattina di sabato e quindi voglio dire, un incontro questo signore l'ha avuto con un altro e se Giacovacci dice la verità io tento a pensare che fosse Giacovacci con la maschera da vecchio. No, non sto dicendo con la maschera sto dicendo che lui lo descrive come un vecchio ma forse perché sta confondendo ma la macchina non la confonde quindi bisognerebbe vedere se Giacovacci ci aveva all'epoca non è che ci vuole molto a sapere questo, no? E magari non saprei ci vorrebbe un'attività a stare di chiedere ma sarebbe chiederglielo ma sarebbe chiederglielo che macchina c'avevi all'epoca con che macchina eri? Era di sua proprietà intendo certo esiste ancora traccia come come al solito se qualcuno dei nostri ascoltatori ci vuole segnalare e dice guardami io mi ricordo che a processo Giacovacci dice che aveva la macchina e ce lo scriva e noi chiediamo è già scritto Fiat 126 Bianca poliziatto della Dicos di Firenze dice ok quindi egli a processo dichiara di avere una Fiat 126 Bianca esatto ok grazie Dani prego quindi lo dice a questo punto ci basta soltanto andare a verificare lo storico target di questo signore e vedere se effettivamente in quell'anno aveva una Fiat 126 Bianca darsi anche che non fosse sua la 126 Bianca e beh a questo punto la cosa si inizia a complicare no voglio dire non è detto che trovi traccia che lui abbia avuto la 126 Bianca per se non fosse la sua macchina però a parte questo beh vuol dire ora il riscontro ce l'hai no questo signore questo guardone dice d'avere visto una 126 Bianca quello della 126 dice d'avere visto questo guardone mi pare strano che c'era un'altra 126 Bianca che non era la signora Covacci ma che vede questo signore e questo signore non si ricorda di questo insomma come voglio dire se io vedo 226 Bianca lo stesso giorno lì mi parebbe strano no c'è un'altra uno con un soggetto di 55 anni bello e robusto e l'altro con un soggetto giovane no invece non lo dice però la 126 la descrive e se la deve descrivere per forza perché secondo me questo signore non pensa che sia arrivata una lettera dai giornali questo signore pensa che a fare che a segnalarlo sia stato quello della 126 Bianca quindi non può dire che non c'è stato però come l'incontro avviene il sabato mattina ma non la domenica ecco perché ti dice no io di domenica non c'ero però c'ero il sabato mattina però non vorrei sbagliare ma la Carmignano non parlava anche di questo seghe seghe il giorno dopo alle 17 invece che l'avevano visto o ricordo male io in questo momento diciamo che non posso esserti di aiuto perché non mi ricordo magari cristiano o lisa se si ricordano stavo controllando stavo infatti controllando io se che sei io l'ho studiata la prima volta dalla Carmignano e loro vanno via mi pare proprio perché vedono questo questo qui vanno via non vorrei ricordare male ora la testimonianza della Carmignano però parla la Carmignano parla dei 17 30 di ieri 8 corrente e cosa dice ce l'hai proprio la testimonianza dice proprio testualmente ora che ricordo ho notato molte volte uno di San Casciano un tipo strano che fuma la pipa taciturno il quale frequenta molto la casa del popolo se lo vedessi si era in grado di riconoscere quell'uomo ora che ricordo lo chiamano seghe seghe comunque facilmente rintracciabile però non dice che l'ha visto quel giorno sì 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 nel senso dice molto spesso cioè parla in generale della zona no in effetti è vero aspetta dice soltanto molto spesso si è notato un uomo di storia piedi ora che ricordo ho notato molte volte uno di San Casciano però non dice che l'ha visto proprio in quel momento che bel lavoro di squadra che facciamo è arrivato Cristiano a salvarci perché nessuno si ricordava questo particolare grazie e quindi voi che ne pensate di questa storia Lisa tu che hai parlato poco su questo argomento ma non ho idee su questo sicuramente lui dichiara di essere lì perché sa di essere stato visto come come suggeriva appunto scrivo però non ti saprei aggiungere molto di più ecco è curiosa però questa storia io vorrei sentire che cosa ne pensa di Bernardo perché io qui mi permetto di dire la mia questa persona parla con le persone che sono disposte ad ascoltarlo o che sono suoi pari allora siccome questa persona dice di essere un disegnatore un ritrattista io avrei pensato di coinvolgere Piero Maggi e gli altri direttori di testata per capire se dal tratto i disegnatori delle tre testate riconoscevano il collega però chiediamo al DIBE detto questo se voi siete d'accordo io andrei a questo punto di gran carriera sul terzo anonimo che interviene nella nostra storia e il terzo anonimo che interviene nella nostra storia fa arrivare il giorno 16 20 settembre una lettera che apparentemente viene scritta l'11 e imbucata e timbrata partita da Firenze il giorno 16 e questa lettera tanto per cambiare anonima ma almeno questa volta non è battuta a macchina ma è scritta a mano è brevissima se Lisa che non ha bisogno degli occhiali ce la vuol leggere altrimenti io mamma mia scusa Emanuele per un attimo date via la voce e non ho capito questa lettera arriva questa lettera viene scritta l'11 settembre a mano su carta e viene imbucata il 16 di settembre dopodiché arriverà qualche giorno dopo adesso questo dato mi manca comunque dovrebbe arrivare intorno al 18-19 e questa lettera viene spedita viene indirizzata ai carabinieri di San Casciano la persona che la scrive noi non non sapevamo chi fosse in quanto c'è una firma ora poi qui noi ci sono delle cose che ovviamente possono essere dette su questa firma e altre cose assolutamente no però la cosa interessante qual è che questo signore dice alla caserma dei carabinieri di San Casciano e per conoscenza alla questura di Firenze questa lettera è quella che conoscete conoscono tutti vogliate al più presto interrogare il nostro concittadino Pacciani Pietro nato a Mercatale e residente nato a Bic residente chiedo scusa mi servono gli occhiali nato a Bicchio e residente nel nostro paese in piazza del popolo a Mercatale prego ok poi purtroppo non si legge perché non ho un formato questo individuo ha detta di molti di molta gente aspetta vedo se la trovo io che l'ho anche citata nel mio libro paro paro benissimo però trovarla ecco io nel frattempo che noi recuperiamo il testo chiedo scusa ai nostri ascoltatori pensavamo di averlo riportato integralmente invece è soltanto un ritaglio che succede in buona sostanza ah ecco l'ho trovata è stato in carcere per dieci anni per aver ammazzato mi sembra ci sia scritta la propria fidanzata però se Cristiano ce l'hai se la leggi va bene quindi se troviamo un testo leggibile poi lo possiamo leggere anche dopo io intanto vado avanti dice guardate che in buona sostanza andate a indagare il nostro concittadino Pacciani non fa riferimento ai delitti del mostro ce l'ho ma la consigenza temporale e geografica indurrà i carabinieri di San Casciano a ritenerlo in qualche modo coinvolto nei delitti anche perché Pacciani è amico di Segue Segue quindi se ieri sono andati a perquisire Segue Segue oggi arriva la lettera e vanno anche dall'amico la lettera recita così Cristiano Allora vogliate al più presto interrogare il nostro concittadino Pacciani Pietro nato a Vicchio e residente nel nostro paese in piazza del popolo mercatale questo individuo detta di molta gente è stato in carcere per 15 anni per aver ammazzato la propria fidanzata conosce mille mestieri un uomo scaltro furbo un contadino con le scarpe grosse e il cervello fino virgolettato tiene sotto sequestro tutta la famiglia la moglie grulla le figliole non le fa mai uscire di casa non hanno amicizie vogliate intervenire interrogare l'individuo e le figlie è un tiratore scelto scusate vi interrompo un nanosecondo c'è un saluto in diretta per la Lisa grazie buonasera ciao Lisa ciao Valerio ciao a tutti oh Vera ciao ciao Chiara stavo andando a casa e sentivo la voce di Lisa e Daniele mi ha visto vi abbraccio un buon anno a tutti gli ascoltatori a voi e tra poco sicuramente si sente la mia voce di nuovo Vera domani ti chiamo va benissimo sei sempre nel mio cuore come tutti gli altri ti chiamo anche io domani Vera va benissimo ma chiamano tutti ok chiamatevi tutti un saluto se casomai stai in ascolto anche Mariana ti saluta Mariana Riccardo a tutti a tutti quanti uno un piccolo particolare per Samuel Vega ecco va bene però per gli altri certamente non tolgo niente perché vi voglio bene ciao buon anno questa è una voce che ci mancava è una voce proprio che ci mancava comunque vi auguro veramente un bellissimo anno ragazzi e che questo anno diventa speriamo una bella cosa speriamo speriamo che non arrivino gli alieni ecco ci manca solamente quello no io c'ho un amico alieno ecco e abbiamo anche che è quello che arriva dal pianeta lontano no molto lontano davvero davvero molto lontano quindi lo sento non molto spesso va bene vi lascio al programma a voi ragazzi grazie a chi gli alieni e a chi i sassi un abbraccio un abbraccio un abbraccio enorme e quindi ciao ciao Vera e quindi tornando alla nostra lettera è strano perché ci sono due persone entrambi anonime che guarda caso scrivono due lettere distinte una indica Pacciani e l'altra indica l'amico di Pacciani che ne pensate di questa di quest'altra lettera ma io tanto avrei una piccola domanda che magari una cosa che non so io se non mi ricordo male non vorrei ora anticipare le cose ma l'autore di questa lettera era entrato in contatto con Pacciani nei primissimi anni 80 anche lui perché aspetta tutti questi anni per farsi vivo era vicino di casa di Pacciani la casa di vacanze nell'81 82 mi sembra che dica sì allora all'epoca dei fatti noi questo non lo sappiamo perché sarà Giuttari sarà il dottor Giuttari a scovare l'anonimo scrivente ma solo non vorrei dire 16 anni dopo ma più o meno siamo lì ma e non ha mai fornito spiegazioni sul perché ha aspettato 3-4 anni e comunque un delitto all'anno prima di farsi vivo se aveva questi sospetti voglio dire che cosa è cambiato nella sua testa dall'82 all'85 nel confronto di Pacciani forse non l'ha maturata ancora l'idea di Pacciani ma l'ha maturata nell'85 sì sì può essere diciamo che allora quando arriva questa lettera è anonima e a quanto pare poi il dottor Giuttari una decina o 12 anni dopo la riconosce riconosce la firma di allora la firma ci ha ricordato un'altra cosa ma questo è un altro discorso noi diamo per buono l'interpretazione del dottor Giuttari che quindi 10 anni dopo scopre chi ha scritto questa lettera ok ora chi ha scritto questa lettera secondo quanto viene poi riportato in aula di tribunale perché noi a questo ci dobbiamo come dire affidare questa persona diciamo solamente il nome di battesimo no? perché è andato in aula e si chiama Floriano questo signore che è deceduto aveva un figlio che è deceduto e la cosa secondo me strana che come dire che questo signore è nato alla marina di Calenzano che questo signore lavora in banca che questo signore la moglie di Vicchio che l'amico di questo signore è di Firenze e che la moglie dell'amico di questo signore è di Vicchio che sono quei vidi pacciani e che quindi molto probabilmente si conoscevano per questo anche perché poi ecco ora chiaramente se erano vicini di casa a Sant'Anna come tu giustamente dicevi no? perché dopo Cristiano diceva ma dopo Giuttare ci dice chi è no? è possibile che dall'80 non si sono accorti di di niente a quanto pare e a quanto pare no ecco ora ci sono altre cose che che non si possono assolutamente dire su questa storia e io mi limito a dirne una che questo signore abitava in via lunga ora via lunga al 33 e adiacente a via lunga 46 e a via delle muricce cioè via delle muricce e dove lavorava la pettini quando veniva seguita dall'uomo eccetera via lunga 46 e dove eh aveva lo studio eh un altro degli indagati nella storia del mostro quindi forse questa persona non ci tiene a firmare nell'85 perché dice dopo scoprono che io sono nato alla marina di travalle scoprono che abito in via lunga dove c'è eh la ditta della pettini che però poi ho preso la casa a Sant'Anna dove a San Casciano avvengono i delitti avviene l'ultimo delitto che sono di Vicchio che mia moglie è di Vicchio ma non esco più è più assomiglio è qui e vabbè e quella è più è più assomiglia cioè prova a immaginare se poi magari assomiglia anche a qualcosa di più concreto e quindi giustamente il cristiano ci ha già portati avanti e ci ha raccontato che poi l'identità di questa persona viene svelata quindi al perché Pacciani viene tirato fuori viene tirato in mezzo è proprio questa lettera a smuoverlo come abbiamo visto che la segnalazione eh anonima va a colpire il signor sé e che la segnalazione invece della guardia giurata va a smuovere i vigilanti quindi sembrerebbe io qui mi permetto di dire questa cosa sembrerebbe no che questi tre signori di cui poi due addirittura vengono eh indagati finiscono indagati su segnalazioni una su una segnalazione anonima e l'altro su una segnalazione di una guardia giurata che non che si ricorda vagamente di quattro anni prima l'altro non verrà iscritto nel registro degli indagati nemmeno in quello delle persone informate sui fatti perché insomma i carabinieri quando dicono vabbè questo qui non fa molto eccetera no però insomma erano anni in cui di signorazione anonima e l'85 ne arrivano parecchie ora no finisci finisci no dicevo ora noi abbiamo escusso solamente i tre anonimi principali per questa sera ne avremmo aspetta io non ho detto nulla su questo letterano certo ne avremmo ancora quattordici ovviamente non non è possibile perché ci vuole un per a un certo punto bisogna anche un per ci vuole un per perché altrimenti non ce la si fa però il professore voleva dirci qualcosa sì volevo dire questo che allora chi ha scritto questa lettera è un gran furbone perché sempre quasi mezzo ignorante invece è una persona abbastanza culturata però questa lettera per me è stata una grande sciagura per le indagini come è stata una sciagura Stefano Mella nel 68 questo veramente se si fosse risparmiato di scrivere questa lettera sarebbe stata una gran fortuna per le indagini certo io ti posso scrivere una lettera anonima e tu poi mi vai a indagare su qualcuno la colpa non è che è sua la colpa è delle indagini ma pensare che le indagini su Pacciani siano partiti perché questo ha scritto una lettera del genere nel senso se non l'avesse scritto magari non sarebbe mai partito un'indagine su Pacciani io sarebbe stato una benedizione sarebbe stato meglio se non l'avesse scritta mai magari oggi non avremmo nessun colpevole ma almeno avremmo forse le idee un po' più chiare invece ora sono una gran confusione ovviamente io parlo da chi non crede assolutamente che Pacciani sia colpevole certo però io credo che Pacciani ci sarebbero arrivati comunque perché allora ma anche ora le indagini tu vai a indagare chi ha precedenti penali chi ha precedenti penali per omicidio e lui ce l'aveva quindi forse sarebbe arrivato a Pacciani anche senza quella lettera e che omicidio tra l'altro eh appunto è corretto non della fidanzata perché Miranda Bugli si salvò in quella circostanza anche perché non era il bersaglio ma del povero Severino ma questo è un errore voluto da chi scrive chi scrive lo sa benissimo che non è tu dici che ci sta circuendo si certo ti dice non ti dice l'importante è che tu vai su Pacciani ti dice un tiratore scelta secondo me non lo sa un tiratore scelta ma lo dice intanto perché forse e forse davvero lui crede che questo sia il mostro di Firenze potessi che l'anonimo crede davvero che Pacciani possa essere portero ma scusa perché allora non dire è lui il mostro di Firenze non lo dice è perché di Vicchio sono tutti di Vicchio non vuole essere implicato però te lo scrivi in modo tale che te lo fa capire benissimo che potrebbe essere Pacciani mi pare strano quello che voglio dire che hai bisogno di una lettera anonima per arrivare a Pacciani non avresti avuto bisogno di una lettera anonima tu dovevi indagare a 360 gradi c'hai uno che ha commesso un omicidio io non l'avrei indagato comunque Pacciani però insomma poi non solo aveva anche era un guardone che Pacciani non so se ha mai avuto denunce o segnalazioni perché era un guardone Pacciani non lo so dunque negli anni dei fatti ti rispondo no successivamente poi sappiamo che tutti quanti sono stati guardati da Pacciani ora non è che ce l'abbiamo con Pacciani perché certo ecco perché ho detto che questo è un gran furbo dice ha ammazzato la fidanzata ma non so bellissimo che non è stata la fidanzata è come se ti volesse dire che non lo conosce bene alla fine si sbaglia invece lo conosce benissimo e anzi un plauso a Giuntari che è arrivata non so come abbia fatto 16 anni dopo insomma molti anni dopo ad arrivare a capire chi era questo anonimo ma questo anonimo poi l'ha detto che è stato lui l'ha confessato ha detto sì certo ecco l'ha detto perché l'ha fatto ma sia lui che il suo amico Mario parlano a processo e quindi potete andare sul sito in sufficienza di prove e cercarvi la trascrizione a processo Pacciani quindi se non dico una vischerata siamo nel 94 95 96 quegli anni lì i due amici quindi Floriano e Mario con le rispettive mogli perché la casa a Sant'Anna l'hanno presa diciamo con un gruppo di amici molti dei quali hanno delle radici su vicchio hanno preso questa casa proprio di fronte a quella di Pacciani a Sant'Anna Sant'Anna che cos'è Sant'Anna Sant'Anna dunque sono due quattro case quattro edifici intorno a Unaia in aperta campagna proprio a due passi siamo verso l'imprometa è un posto bruttino ecco cioè non è un luogo di vacanza dove mi immaginerei di trovare che ne so il Conte Corsini o o il professor Scrivo ecco in ogni caso comunque scusami questa lettera anonima lì per lì non ha sostituito indagini su Pacciani perché quelli sono vanno a fare una perquisizione va bene però se non sbaglio Pacciani nel processo dice che la perquisizione la lettera arriva il 16 ha detto questo se correggetemi se sto sbagliando io vado a memoria ma la perquisizione avevano già fatta a casa erano già no la perquisizione ma erano già andati a cercarla perché Pacciani parla mi sembra nel delitto lui si ricorda che subito dopo il delitto sono andati a casa sua o sono andati a casa sua perché gli è arrivata la lettera anonima loro vanno a casa sua perché gli arriva la lettera anonima questo ce lo dice il maresciallo Minoliti lo dice chiaramente noi andammo da Pacciani perché ci arrivò una lettera anonima quella quale non si indicava lui come mostro di Firenze ma si sottoponeva comunque all'attenzione dei carabinieri un soggetto che aveva precedenti penali come giustamente dicevi tu prima eccetera eccetera ok ora noi stiamo andando un po' lunghini ah scusa solo una cosa scusa Emanuele prima che mi scordi quando tu dici giustamente che queste tre persone sono comunque anche se quello dietro di te non è mai entrata delle indagini attraverso una lettera anonima ma è così che tante volte si risolvono i casi che arriva una segnalazione e magari è quella giusta certo spesso succede anzi semmai verrà risolto questo caso può darsi che verrà risolto proprio perché non sarà certo lui da costituirsi se sta privi o sarà qualcuno che si ricorderà qualcosa certo assolutamente io mi limito a esporre i fatti poi a volte magari a questo punto siccome sono le 23 e 12 qui il gruppo degli anonimi interessanti da continuare a escutere è sicuramente ben fornito però io forse a questo punto l'approfondimento relativo al quarto perché mi sembra corposo questi erano bazzecchi a confronto lo salterei a pie pari e quindi e quindi patron bronzi buonasera signora si senta signora quando posso venire a trovarla ma con chi parlo con un amico chi è al telefono Franco 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 chi pronto? sì e mi dica Franco chi? eh? con chi parlo scusi? Franco 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 chi? pronto? sì scusi lei con chi desidera parlare innanzitutto? ecco la signora la signora quale? la signora lei ma la signora lei chi? lei è lei che mi parla scusi eh? è lei che mi parla scusi lei con quale signora vuol parlare? non lo so non lo so guardi con quale signora vuol parlare? ma se mi dice che posso venire a trovarla glielo dico lì ma scusi lei ha fatto un numero di telefono a chi corrisponderà nella sua testa? eh no guardi è un amico che me l'ha dato ma un amico di chi? della signora non lo so no scusi e che gli devo dire guardi a questo punto si riattacca e buonanotte non c'è più dialogo ha capito? no ma scusi abbia pazienza mi faccia capire bene la cosa lei vuole parlare con quale signora? ma ma quella signora è un ufficio godesto signora? cioè un ufficio di che cosa? eh ma allora sarà una casa no? è una casa quella lì? dove sta telefonando lei è una casa? con chi signora vuole parlare lei? eh no senta io la sto salutando eh perché riattaccare in tal modo non è educato si vede che c'è uno sbaglio signora c'è uno sbaglio per quale motivo? lei cercava quale persona per quale motivo? eh andare a fare l'amore signora andare a fare l'amore? hm ma scusi chi gliel'ha dato questo numero di telefono? un amico un amico che capita lì dalla signora questo numero un amico che capita dalla signora dove? eh a casa sua e chi è questo suo amico? il nome anche di lui vuole? eh vuole il nome di lui? si voglio il nome dell'amico Mario 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 chi? Mario oh signora ma che gli devo dire via la mi riattacchi prima lei se no sono maleducato a riattaccare prima io via no ma io vorrei sapere bene questa storia chi gliel'ha dato? chi è questo Mario? è un amico che capita lì signora allora non l'ha capito? no non l'ho capito ecco allora la mi riattacchi prima lei se no sono troppo maleducato no no non si preoccupi non ho problemi di questo tipo vorrei capire bene chi è questo Mario che gli ha dato questo numero di telefono? è un signore che capita lì da loro e che gli devo dire? ma chi capita qui? eh sì e dove? e quando è capitato qui? ma non lo so dire ma che gli devo dire? eh eh ma non lo so dire se mi è capitato oggi ieri o cinque anni fa eh non lo so ma lei come si chiama? eh gliel'ho già detto eh no non me l'ha detto lei ha detto io sono un amico di Mario Franco gliel'ho detto Gianfranco e di cognome come si chiama? io? sì Taddei Taddei eh? sì Taddei ho capito io penso che forse lei abbia sbagliato numero eh può darsi signora eh ho la sensazione sia proprio così e allora senta signora io la saluto e mi scuso tanto eh d'accordo arrivederci signora arrivederci tanto saluto prego ecco quella che il patrono ci ha fatto ascoltare è ovviamente la telefonata che c'è stata che è stata fatta sull'utenza personale della dottoressa Silvia della Monica il giorno lunedì 23 settembre 1985 alle ore 17.03 la telefonata è durata circa 5 minuti ovviamente noi abbiamo la la bobina perché il telefono del magistrato fu messo sotto controllo subito dopo l'invio del feticcio ovviamente dobbiamo dire che le voci che abbiamo ascoltato non erano quelle della dottoressa della Monica e del presunto telefonista ehm Gianfranco Taddei ma sono quelle di ehm due nostri collaboratori che hanno prestato le loro voci però il testo è fedelissimo quindi ehm viene riprodotto il dialogo a questo punto io faccio la domanda a Cristiano Cristiano ma questo Gianfranco Taddei si chiama veramente Gianfranco Taddei oppure no ma ehm ci sono un sacco di cose da dire su questa cosa ma rispondo prima questa cosa qua a questa domanda mh secondo me Gianfranco sì per l'insistenza del Franco iniziale sicuramente Taddei no direi come farebbe un pochettino chiunque diciamo eh può dare il nome ma non il conio però la familiarità con cui lui usa Franco e poi dice nome per intero Gianfranco mi fa supporre che possa essere effettivamente il suo vero nome non credo che sia stato così ingenuo da eh dare anche il 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 suo vero conio ingenuo comunque ovviamente a seconda delle sue intenzioni ecco questo poi è tutto da appurare io volevo fare se posso due osservazioni di questa cosa certo innanzitutto eh credo che una cosa che si può escludere felicemente da questo episodio è la classica ehm la classica intervento del mitomani o del burlone a seguito di un evento di uno scoop di un evento eh importante come può essere quello della lettera perché le date non coincidono nel senso che questa telefonata anticipa di tre giorni la comunicazione pubblica della lettera quindi non è impensabile pensare alla reazione emotiva per cui che scatena sempre i pazzerelli queste quindi sicuramente possiamo pensare forse lucidamente che si tratti di mh almeno di non pensare una coincidenza che lo escluderei forse di comunque una lettera una telefonata mirata effettivamente mirata effettivamente eh in qualche modo voluta ecco eh sulle intenzioni poi chiaramente è tutto da vedere quello che vorrei che non so è che secondo me potrebbe anche essere importante so che l'utenza era intestata al marito della dottoressa esatto ma esatto ma era però ciò detto era comunque un numero riservato o era sull'elenco perché chiaramente non era sull'elenco non era sull'elenco non possiamo ovviamente rivelare il numero di un magistrato non era sì no no vabbè sentite che questo già chiaramente restringe il campo restringe abbastanza il campo ecco perché chiaramente un numero pubblico può essere basta sapere appunto chi è il marito della dottoressa i vicini di casa conoscenti colleghi in questo caso direi che il campo è molto più ristretto d'altronde mi fa anche pensare che sicuramente è difficile che la cosa venisse dall'interno dell'ambiente della dottoressa della Monica visto che si sapeva che il suo telefono era sotto controllo sono un po' di osservazioni sparse così ecco certo professore lei vuole tu vuoi aggiungere qualcosa allora io invece penso che fosse una telefonata velenosa non credo proprio che sia il nostro che telefono per me no 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 io anche se il telefono è sotto controllo sono compito che chi ha telefonato sia qualcuno che conosce benissimo non lui personalmente magari io vedo all'interno invece dell'ambiente della Monica anche se non è uscito ufficialmente ancora sui giornali però procura lo sanno che è arrivata la lettera della Monica per me è una cattiveria fatta nei suoi confronti però la della Monica nella telefonata fa il magistrato cerca di capire infatti tiene l'interlocutore abbastanza lungo su tele vuole sapere soprattutto chi gli ha dato il numero è ovvio che quello non glielo dirà mai quindi credo che la della Monica cerchi di capire con chi ha a che fare non penso che in quel momento stesse pensato al nostro proprio perché il suo è un numero riservato vuole sapere dall'interlocutore come ha fatto sa benissimo che questo secondo me la della Monica sa benissimo che questo è una telefonata strana io credo che se ne renda conto benissimo e non so se ha già pensato non a qualcuno di più particolare ma che potesse arrivare dal suo ambiente ecco non so come definire non da collaborazione ma dalla procura ecco oppure da persone vicine alla procura credo che la della Monica si sia reso conto di questo non penso che abbia pensato al mosso poi non lo so perché non so se si è terrorizzata se non si è terrorizzata se si è arrabbiata e ha capito che comunque quest'assassino non poteva mai sapere il suo numero di telefono perché non faceva l'assassino e sapere il suo numero di telefono ma se lavora la SIP ma non so se lavora la SIP però forse il numero di un magistrato non è neanche la SIP è in cabina in cabina cosa cioè in questo chiamata una cabina telefonica no scusami è nella l'ho chiamata in maniera impropria diciamo nella nella cassetta di derivazione in strada bene quando quando lei ha le informazioni che le interessano cioè chi ha chiamato come ti chiami è lei che abbandona dice guardi lei deve aver sbagliato numero a quel punto forse non interessa più alla della Monica continuare questa questa conversazione le informazioni che voleva le avute c'è questo chiamo perché qualcuno mi ha dato il numero io non credo che la della Monica ci abbia insomma abbia creduto ma è questa telefonata non lo so quindi che cosa pensi vale che sia una telefonata che le nostre fatte da qualche una cattiveria nei suoi confronti una provocazione è una provocazione io come donna la viverei come una provocazione ma al magistrato non alla donna in questo caso è fatto al magistrato però c'è riferimento al fare l'amore e quindi io lo vivrei anche come donna non solo ma al magistrato hai ragione sì da fare l'amore hai ragione da un certo punto di vista sembra un po' la versione diciamo da adulti di quelle cose che si leggono nei lupanari voglio dire se volete telefonate a voglio dire anche perché la malizia sembra più da parte di Mario che da parte di Franco diciamo come se Mario avesse dato a questo grullo dicendogli che è una casa di appuntamento voglio dire quindi è un po' a me ricorda un po' questo comunque è sicuramente una telefonata di insulto sostanzialmente esatto però bisogna capire ora se si analizza bene la telefonata se chi chiama sa che quella era della conta perché anche quello ci gira attorno non va direttamente però mi dà l'impressione che chi chiama sa che quella era della conta però quello è anche un po' l'atteggiamento di uno che chiama una una casa cioè gli danno un numero non è che dice ah pronto è la casa chiusa ci gira un po' intorno perché magari appunto non sa come gestire la cosa magari pensa che dall'altra parte stiano tergiversando per sapere le intenzioni cioè c'è tutto un po' un gioco di sospetti forse secondo me che vi devo aggiungere un particolare per aiutarvi che tentano di intercettare il numero ma non riescono e la motivazione è perché la telefonata proviene da fuori Firenze ma si sa se da fuori comune o fuori provincia vuol dire che la telefonata davanti che all'epoca si metteva il prefisso che ha fatto quella telefonata ha composto il prefisso quindi era un'intera urbana ok quindi paradossalmente se io chiamo dobbiamo immaginare che questa persona magari era a Pisa no chiedevo appunto sulle distanze perché uno che vuole andare comunque a una casa di appuntamenti se abita a Firenze non chiama Roma o almeno poi non so cioè magari chiama un posto un po' più vicino certo io mi permetto di sottolineare il fatto che la telefonata arrivi il lunedì alle 17.03 ora io non ho esperienza di casa di appuntamenti però immaginerei che magari si vada al sabato sera al venerdì sera ecco non a lunedì pomeriggio ecco però ma non è detto che chiami una casa di appuntamento forse chiama la casa di una prostituta quindi potrebbe essere teoricamente pronta a qualsiasi ora ho capito tu quindi dici praticamente non lo sai lunedì pomeriggio io invece cercherò di ricostruire ora io non ce l'ho sotto la telefonata per cercare di capire appunto se l'interlocutore sa benissimo con chi sta parlando quindi sul gioco delle parti fra loro due perché questo sta attento sta attento anche lui non mi sembra mi sembra che sia prudente anche lui io ho l'impressione che sape benissimo che sta a chiamandare della Roma e quindi visto che siamo in chiusura vale a bruciapelo perché chiama chiama secondo me ripeto o chiama perché la vuole spaventare o chiama perché ha le sue inibicizie all'interno della procura anche lei non lo so io lo vedo come una come devo dire una cattiveria una cattiveria nata nel suo stesso ambiente una cattiveria secondo te lisa perché la scusami trovo strano che questa benetta della monica questa povera donna quel mese quei giorni riceve una telefonata una lettera anonima da parte del nostro di Firenze e poi anche una telefonata anonima o sono davvero la stessa persona ma se sono la stessa persona devo pensare che questo perché non glielo dice chiaramente perché non la spaventa c'è proprio una presa in giro ma non la sta spaventando a me non la presa in giro però c'è la registrazione di questa telefonata esiste ancora? esiste ancora non volete sapere chi è Gianfranco Taddei vero? come no? non si sa non volete sapere perché sono le 23.30 e adesso io lo so già ecco perché tutto lo sai lo so lo sai già infatti anche questo o è un caso che davvero si è scuggiato una cosa beh però quanti c'è un tante tattesi in Italia ci sono nella provincia di Firenze in tutta la Toscana semmai questo potrebbe essere in tutta Italia sono tre in provincia di Firenze sono uno e uno in provincia diciamo in Emilia Romagna vedi prima dice Dio Franco poi dice prima dice Franco poi dice Gianfranco poi dice proprio Taddei presumo che siano andati da questo poveraccio a chiedere gli spiegazioni presumo aveva una ferramenta se può essere utile no può essere non sapere se sono andati a cercarlo e questo non lo sappiamo allora non sappiamo se era veramente lui nessuno è andato a chiedergli noi siamo risaliti a questi tre soggetti uno di questi tre soggetti era di Firenze uno aveva una ferramenta fuori in Emilia Romagna e l'altro non era in età per fare queste cose comunque dalla trascrizione di Romagna mi sembra che si capisse che comunque sia un toscano questo piano e qui ci vorrebbe Dante Alighieri per dirci se era stata la vada in Arno tipicamente toscane magari un bravo attore può anche camuffare la voce e darsi un finto accento no? Lei non è toscana però giusto? No è campana ma il marito è registrato o non si sa? Il marito è un funzionario del Ministero dell'interno ok ecco perché il numero non è in elenco in questo telefonato in quale casa arriva se si sa questo beh questo lo possiamo dire senza dare ovviamente l'indirizzo di un magistrato arriva nella casa Fiorentina non arriva nella casa di vacanza come a volte è stato detto esatto arriva nella casa Fiorentina insomma il sospetto Emanuele che un numero privato di un magistrato di un funzionario del Ministero dell'interno non può essere dato a casa e mi pare strano che uno sbagli il numero di telefono potrebbe anche accadere sbagli il numero un 3 al posto di un 4 e poi vai a chiamarla della Monica però avrebbe potuto fare un'indagine e vedere se a parte che non credo che ci fossero case d'appuntamento perché erano vietate quindi non esistevano case d'appuntamento beh a parte quella di Via Fiume sì ma sono case clandestine non è che sono case comunque illegali per vedere se le aveva già chiuse confrontare dei numeri di telefono per vedere se in qualche modo corrispondevano ma non credo che l'abbiano neanche fatto bisognava chiedere a un frequentatore di case d'appuntamento allora questo la polizia non li conosce gli inquirenti non sanno questi numeri e li sanno benissimo i numeri dei frequentatori o i numeri delle case i numeri delle case addirittura non esisteva un buon costume non hanno un controllo del territorio allora ce l'hanno benissimo teoricamente sì considerando anche che in quegli anni forse eravamo ancora più controllati di oggi perché eravamo sempre in epoca di terrorismo ancora certo ricordiamo che da lì a qualche mese il sindaco di Firenze cadrà vittima delle brigate rosse quindi quindi il controllo sul territorio ce l'avevano oddio ti potrei anche dire che se il povero sindaco è stato vuol dire che tanto controllo non ce l'avevano se c'erano i rapimenti a ogni apertura di finestra tanto controllo non c'era forse non funzionava però vabbè comunque hai ragione quanti o non sono rimasti fuori 74 74 ma lo dici per dire no sono in tutto 74 noi abbiamo fatto una cernita abbiamo preso quelli un po' più interessanti ma 74 in tutta la storia però no nell'85 però ne abbiamo preso quelli più interessanti non abbiamo preso l'anonimo che ha scritto la lettera è il mio cugino il mosto è mio cugino abbiamo preso quelli che in qualche modo ci sembravano pertinenti e ne abbiamo tralasciati alcuni ora noi siamo è quello più interessante di stasera io lo recupererei in qualche modo e lo dovremo recuperare va detto poi parlando di anonimi che ci sono poi tutta un'altra serie di eventi che in qualche modo si rifanno al vestito dell'anonimo e in particolar modo abbiamo quelle che citavi tu prima Valerio cioè le tre lettere anonime anche quelle con tanto di cartuccia calibro 22 Long Rifle è l'articolo di giornale con la famosa frase ve ne basta una testa che tra il primo e il 3 o il 5 di ottobre adesso se non mi inganna verranno recapitate ai tre magistrati la cosa interessante è che però l'articolo di giornale non è una fotocopia ma è un ritaglio originale a quanto pare quindi vorrebbe dire che questa persona si è presa la briga di comprare tre giornali le prime due poi le manda per posta a Canessa e a Flory l'ultima invece se non mi sembra che Arvigna sia tassata e che le altre due sia a mano però potrei sbagliarmi o forse è il contrario poi verificheremo nella ne parleremo comunque in una prossima puntata in cui ci occuperemo delle parole del mostro perché il mostro in fin dei conti parlava col ferro e col sangue io direi che per questa sera è tutto concluderei a questo punto la triquadrilogia sugli anonimi dei delitti del mostro di Firenze ricordando però che noi torneremo a parlare di mostro di Firenze l'11 di febbraio e lo faremo ovviamente visto che siamo in tema Sanremo in tema San Valentino con un tema un po' più con dei toni un po' più morbidi ecco mentre giovedì prossimo il 4 di febbraio parleremo di un altro grande tema che però per il momento non non vi diciamo perché perché ve lo dirà Valerio quando deciderà di dirlo ma abbiamo altre puntate tematiche in cantiere sul mostro e quindi se Cristiano Lisa ci vorranno venire a trovare di nuovo potremo affrontare con loro queste puntate che sono diciamo documentaristiche ma al tempo stesso anche di logica e di ragionamento di spunto io spero che la puntata vi sia piaciuta che abbiate trovato interessanti di spunti e ad ogni buon pro grazie a tutti grazie a Lisa Sequi grazie a Cristiano De Micheli e grazie a Valerio Scrivo Daniele maestà io a questo punto da Milano come? maestà ora mi sembra esagerato ma comunque va bene uguale via sua maestà sua maestà Sire a questo punto noi ridiamo la linea da Milano e tutto ci teniamo la nebbia e e noi qui fra poco ci teniamo l'acqua perché dovrebbe piovere a breve ai ai e vabbè grazie eh? Vera è sempre con voi no no è passata di qua mentre stava andando a casa ah ho capito perciò è passata a fare un saluto e via grazie a tutti è stata veramente una splendida trasmissione complimenti e a giovedì prossimo con non sappiamo che cosa per il momento però lo sapremo a breve via buonanotte ragazzi buonanotte grazie mille grazie mille ciao Lisa ciao Emanuele ciao Saver sì Saver buonanotte ciao Valerio ciao Valerio ciao 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 ciao